di questa sera che vi invitiamo a seguire Crotone Ternana con l'amico Ivano Mari questa sera a partire dalle 20.19.30 all'incirca con Giorgio Brighi qui e l'amico Ivano Mari invece che si troverà a Crotone appunto. Benissimo è la nostra ora 14.50 quell'ora lì quell'ora della promozione delle taverne in cui mi trovo a servire anche i ragazzi lo sanno ovviamente che adesso io mi trovo a Sant'Egidio di Monte Castrilli 17esima festa delle tagliatelle della trebbiatura e gnocchi al castrato 32esima sagra della cresciola preparata dalla grandissima amica romana che noi salutiamo bellissima settimana è stata mercoledì 27 con Carlo Frisi giovedì 28 con l'orchestra fantasia vi ricordiamo gli appuntamenti questa sera serata danzante con Michelissimo domenica domani ovvero ore 18 spettacolare esibizione Zumba Fitness e Zumba Kids con la Zin Micol Carrino ore 21 serata danzante con la nuova orchestra spettacolo Vanessa Moro direttamente dal canale Italia lunedì Sant'Egidio parte eucaristica benedizione ed inaugurazione nuova torre campanaria celebrazione santa messa in onore del santo presieduta da sua eccellenza sua eminenza cardinale Ennio Antonelli alle ore 18 l'inaugurazione della nuova torre bellissima in rame ottone non so che materiale sia fatta quest'anno dalla prologo Sant'Egidio lunedì serata danzante con l'orchestra principe e alle 23 non perdetevi il grande spettacolo pirotecnico grande spettacolo pirotecnico e si fa a Sant'Egidio ogni primo settembre non alla fine della festa ma nella serata dedicata al santo martedì serata danzante con il tiziano alle 23 esibizioni di danze latine americane della coppia Zara Filippo e Corvirene della scuola di ballo AS di samba del maestro Simone Serangeli e grandissima conclusione mercoledì 3 con l'orchestra Luca Sebastiani poi ovviamente prima di andare a ballare passate in taverna si comincia come sempre con un bellissimo antipasto misto le bruschette miste tagliatelle della trebbiatura o gnocchi al castrato o picchiarelli al pomodoro le pizze farcite con tutti i gusti prosciutto formaggio salsiccia e verdura scottario di agnello scottario di vidello e il piatto forte della taverna di Sant'Egidio le tagliatelle ovviamente gli gnocchi tipici ma anche lo stinco di maiale arrosto con le patate preparato dal grandissimo moreno che noi salutiamo tozzetti e vinsanto per dolce e io non mi resta che quindi darvi l'appuntamento a Sant'Egidio in festa fino al 3 settembre saluto a tutta la taverna benissimo siamo anche all'ultima puntata quindi come l'anno scorso voglio giustamente ringraziare tutte le prologo tutte le associazioni che mi hanno ospitato come cameriere a partire dalla prima la mia sacra la mia proprio in tutti i sensi anche la vostra dove avete servito quest'anno la prologo Casteltodino per la sacra della Lumaca proseguendo l'associazione culturale la casetta prologo Selvarelle la prologo di Dunarobba con cui ci ritroveremo per andare in gita a San Marino il 6 settembre l'invito è aperto a tutti anche al di fuori dei collaboratori della prologo ovviamente chi non ha partecipato alla taverna paga 55 euro ma chi vuole venire è ben accolto poi la prologo di Avigliano Umbro che saluto l'associazione sportiva AMC 98 di Montecastrilli in cui abbiamo due baldi esponenti della categoria juniores allenata dal grandissimo Franco Montecchiani e ovviamente per concludere l'associazione festa da Sant'Egidio che mi sta ospitando adesso è stato bello anche quest'anno speriamo di ripetere tutti questi bei appuntamenti il prossimo anno con molto mio piacere e spero con il piacere del prologo bene dopo questi quattro